Ho reagito e se avevo qualche cosa non so. Tre o quattro banditi nordafricani hanno aggredito picchiato selvaggiamente il signor Renato, 74 anni, di Seriate, in provincia di Bergamo. E' stato cerchiato dalla banda di stranieri che lo voleva derubare e poi riempito di calci e pugni. Ando a casa a prendere la macchina al parcheggio e uno mi si è avvicinato davanti e mi ha chiesto un'informazione. E' un momento dietro sono arrivati tre o quattro, mi hanno preso dietro e così hanno cominciato. Poi mi sono liberato, sono riuscito a sfidare un pugno a uno, veniva a fare tutto il sangue e è scappato. Però mi hanno tolto la catena. I ladri gli hanno rotto il naso, quella di Renato è una storia che fa paura. La stessa condivisa dai suoi concittadini nei confronti di sbandati, stranieri e clandestini che minacciano la loro sicurezza. La stessa condivisa dai suoi concittadini nei confronti di sbandati, stranieri e clandestini che minacciano la loro sicurezza.